C'è il politico più popolare, il leader politico più popolare nei sondaggi, Salvini, che è stato smentito 26 volte dal Presidente del Consiglio, carte alla mano. Di questo io non ho visto traccia nei giornali, ma sarà una notizia che Salvini non sa letteralmente quello che dice? Io mi aspettavo di vedere un lasso nella manica di Salvini. Tu, oggi nel tuo editoriale, prima di passare a Salvini, vorrei ancora chiederti una cosa su Di Maio, perché hai scritto che Conto è una persona seria e competente. Salvini è un caso umano in stato confusionale, però di Di Maio non hai scritto nulla. È perché hai sospeso il giudizio sul capo dei 5 Stelle? No, no, io non l'ho fatto sospeso. L'altro giorno ho scritto che sta dando vita a un suicidio a rate del Movimento 5 Stelle a proposito delle non alleanze, o meglio, del non tentativo di alleanze in Emilia Romagna e in Calabria. Io quando fa o dice qualcosa che sbaglia non sospendo affatto il giudizio. Ieri Di Maio non ha detto una parola. Io ho assistito al dibattito parlamentare, come immagino qualche milione di italiani, e ho visto che è intervenuto Conte. E perché è intervenuto Conte? Perché è stato chiamato in Parlamento a discolparsi del fatto di avere fatto tutto di nascosto. Conte ha sciorinato fior di documenti, citazioni, date, dati, numeri, da cui risulta che Salvini e la Lega, che lo accusavano di alto tradimento per non averli informati su quello che stava facendo sul MES, e ha dimostrato che per 26 volte Salvini e o la Lega sono stati informati, solo che o dormivano o giocavano col telefonino o guardavano i porno sugli iPad oppure non capivano quello che gli veniva detto mentre venivano informati. Allora quando ha parlato Salvini, io mi aspettavo che Salvini estraesse l'asso dalla manica per dimostrare a tutti gli italiani nella sede più onorevole, il Parlamento, che Conte andava arrestato, come lui aveva chiesto, per alto tradimento, per averci venduti all'Europa. Non ha tirato fuori niente, è stato un comizietto da bar che faceva ridere i polli e dove non c'era nulla che smentisse una sola delle 26 smentite che aveva appena ricevuto da Conte. Questo è quello che io ho scritto. Sono stupefatto che stamattina lo sputtanamento di Salvini non abbia avuto nessun rilievo sui giornali. Ieri il tema non era sì o no al MES, il tema ieri era se Conte aveva gabbato il Parlamento firmando di nascosto di notte e vendendo l'Italia alla Germania, alle banche tedesche. Questo abbiamo sentito raccontare dal leader di partito più popolare nei sondaggi in questo momento. Sarà una notizia il fatto che erano un fracco di balle? Sì o no? Perché a furia di non parlarne è ovvio che poi Salvini va bene nei sondaggi. Bisognerebbe cominciare a dire che Salvini è un cazzaro perché non sa letteralmente di che cosa sta parlando. E non da oggi.